Se non avessi fatto il calcettore cosa faresti adesso? Maldive La tua serie tv preferita? Suz Qual è il tuo cibo preferito? Man on fire Come esulta Lautaro? Non lo so perché non ho capito niente Come esulta Lautaro? Lautaro Argentino Chi è il tuo cantante o il gruppo preferito? ACDC Come esulta Matteo D'Armiano? Porca Qual è il calciatore più forte di tutti i tempi? Messi Quale tra i tuoi compagni di squadra fa più ridere? Basto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti